Proviamo ad andare all'info In anteprima il profumo Questo l'avevo già visto Devono sparire? Ok Devono sparire sti video lunghi 30 secondi al massimo Guardi stanno migliorando Stanno migliorando Va bene Stiamo migliorando Stiamo andando al top Oh carino Che cazzo è Chi sta a levare Cosa ha nella bocca? Dai due video di Gianluca Busani così mi sto buono buono Ah c'è un pezzetto di carne Qualcosa carino Il fitness sta imparando Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ripristinato Onestamente manco solo io Via Lui è il top, sempre Salvano, un saluto Vuoi volare? No, no Non sta facendo La mano sinistra non è Vai Vola È un saluto, è un saluto Questa invece è la mano destra ma non c'entra niente Comunque lo sta facendo Superman Non è niente di Comunque lasciamo un bel like No bro No bro Che stai a fa' Eh? Senti un po', a me sto coso là davanti Mi rompe i coglioni Ma è il telefono intendi? Sì, il telefono, sì Nonno, ma che stai a fa' questo affare? La sorca Cosa? Stai a cercare la sorca? Oh no, mi spieghi che devi fa' Attenti Porca madonna La trappola ve la sorca No, credo siano marchigiani, no? Non è romano Cioè, ogni tanto si confonde Ti spieghi che ce se fa' con quella trappola? Sì Porco due Adesso pure la lancia sta preparando Nonno Che ci devi fa' con sta lancia? Oh Senti, guardate lo scoccio Questa vedo, eh No, no Guardate gli do una botta Ho messo like Che stai a fa' Fumo un bazzucca Non faccio scena Ma scena muta Farfalle nello stomaco Spalletti Via Allora, Giordano Un minuto, via Sette secondi, perfetto Perché c'è sta a bombarli? Va bene, va bene Me la collo Me la collo anche questo Ciao a tutti ragazzi Siamo qui In una piazza di spazio italiana In una piazza di spazio italiana Ma dai, fix Ma non puoi fammi brumotti su Tossico recepito Drogato recepito Inizio a cuore A bombazza Forza, forza, forza Ma smascheriamoli Smascheriamoli Te le ruine, te le ruine Ciao a tutti ragazzi Hai far ridere Ma l'italiano Oh vabbè Ho 19 anni Un minuto, via PEN PEN ging PEN 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 Ma l'animale non si tratta, non così? Due minuti Il veio De sombrerone Un minuto Cerbero content Cos'è sta cosa? Grazie Leonardo Servo delle mie bramme Chi è la più bella del reame? Non sono il tuo specchio Comunque sei tu Ciao volevo chiedere Se c'è Loro e Sei il pianto di Luthi grazie Loro sono i miei meravigliosi studenti E mi hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno Scusa ma tu che segno sei? Io sono pesci La bomba Bacara Gola 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 Si Si Cos'è figo? Direct mechanical connection Michela Dov'è Michele? Ecco mi hanno Oh oh Incazzato se stanno a te Nooo Dove fare le carezze Fai le carezze amica Hi my name is Manue Come ti sei vestuto? Ma come cazzo ha fatto ambezillo? Oh 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 Ucapperuza mascherine E' un giubbotto male l'età Dai gli raccaccia Manuel Manuel come ti sei vestuto? Vestuto Ucapperuza mascherine Manuel le risponde mi sono vestito bene E' un giubbotto male l'età Mi sento già giapponese Vabbè il bianco Sto vedendo Il bianco no Il verde Il rosa no Il rosa salmone No ti prego no Il più forte Non lo riesco a capire Io vorrei parlare Chi è Chi è Qui ammalati di risparmio Mio fratello John è bravissimo a nascondersi dietro di me Per questo motivo in qualsiasi posto andiamo Paghiamo un solo biglietto Salve vorrei un biglietto per il cinema E in quanti siete Non lo vede sono da solo Puoi spostarti Sì Mi sembra che è una persona dietro No Guarda Ok Ok Sì sì tutto bene È divertente Sono davvero un fenomeno a nascondermi Ma dove sei John? Proprio dietro di te È divertente questo Sono stati bravi Non è cringe Mi fa ridere Mi fa ridere Mi fa ridere Sto Non è Liiiiiii. Liiiiiiiinnnnnnnn. Fa vedere il tatuaggio? Nooo. Fa vedere? Vabbè. Do sei?